we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi ovviamente tantissime novità nel video di oggi per quello che riguarda il futuro di fortnite molto prossimo sto parlando ovviamente dell'astro world astronomical tour quindi il concerto di trevis che è stato ovviamente reso ufficiale già nella giornata di ieri ma che oggi verrà farcito di tante notizie che voglio farvi vedere parleremo di lui parleremo di quello che succederà parleremo anche di un qualcosa di molto particolare sulla mappa prima volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui video news ma ovviamente prima di addentrarci nel video io vi voglio fare la domandina ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti proprio qua sotto e la domanda di oggi non poteva che essere questa ma a te come ti sembra la skin di trevis e sì perché dai è stata liccata l'abbiamo vista ve l'ho fatta vedere anche io proprio nel video patch della 12.41 e devo dire che è quella che avevamo preso un mesetto fa ci aveva azzeccato ragazzi quell'immagine un po sfocata che sembrava presa con un cellulare su un computer ed era proprio corretta devo dire molto bella mi piace mai visto travis scott in vita mia però la skin è veramente fatta bene ho avuto modo di dare un'occhiata dimmi invece quello che pensi tu di questa skin qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e vado alle ciance andiamo subito a vedere due cose prima di partire con il concerto e tutte le news innanzitutto posso confermarvi che non ci saranno più sfide di deadpool quindi lo stile che ci è stato regalato settimana scorsa era l'ultima parte della collaborazione lunghissima con deadpool ringraziamo ovviamente epic games per quello che ci ha dato è stato davvero divertente bellissimo il discorso dello yacht bellissima la skin di deadpool davvero fatta bene e grazie ovviamente per tutti i regali che ci ha fatto un'altra collaborazione andata alla perfezione quindi davvero grandi gg e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi si parla direttamente di mark rain per chi ancora non sapesse chi è mark rain è il nuovo ceo di di epic games ne abbiamo già parlato mesi addietro lui è stato tanti anni per la nike se non ricordo male o comunque multinazionale a livelli astronomici tipo sette anni una cosa del genere da qualche mese è il capoccione gigantone di ap games e posta su twitter un messaggio veramente importantissimo in questi giorni in questo mesetto da dove è uscito il discorso concerto di travis fortnite ha ripreso un sacco di utenza ed è veramente così c'è tanto più tanto più traffico come dire online di fortnite tanta gente che è tornata a streamarlo tanti giocatori che hanno ricominciato tanto giocarci tanto hype sui forum appunto per questo mega gigantesco evento che tutti non vediamo l'ora di vedere quindi tanta roba mai mollare beh noi siamo con fortnite dall'inizio e di certo non mi fa che piacere vedere che tanti ragazzi si stanno riavvicinando a questo videogioco davvero meraviglioso e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi è proprio lui sì per chi non lo sapesse ieri su twitch c'era online travis che giocava con una delle skin che stanno per uscire aveva pure 5 6 mila spettatori una cosa del genere quindi molto curioso ne approfitto per dire che ad alcuni streamer è stato già dato il pacchetto o meglio forse solo la skin di travis parliamo di streamer veramente veramente importanti quindi complimenti a loro che l'hanno ricevuta dovrebbe arrivare nello shop dovrebbe essere oggi in lo shop questo video è registrato prima del cambio shop ma oggi è il 22 aprile e quindi dovrebbe già essere disponibile al prezzo di 1500 v bucks quindi tanta tanta roba e andiamo subito allora a vedere bene quello che sta succedendo quello che è stato spoilerizzato un pochettino scoperto liccato allora facciamo un attimo il punto della situa abbiamo la skin di travis scott lo sappiamo tutti con la skin di travis scott arriva anche la skin astro jack che è questo tizio qua da notare qua non si vede bene che ha su un paio di jordan non so perché ieri tutti mi dicevate alle jordan alle jordan alle jordan alle jordan alle jordan la cosa particolare di questa skin ragazzi dobbiamo vederla la nella sua testa perché nella testa c'è presente in poche parole la mappa di fortnite si vede molto male ovviamente in queste immagini ma adesso ve la faccio vedere in maniera più ingrandita tra l'altro molto divertente anche il fatto che intorno alla sua testa giri il deltaplano che ci verrà regalato partecipando all'evento di travis e il rollercoaster qualcosa che c'è un'animazione veramente fighissima ed è pure gratis quindi ragazzi non perdete ovviamente il concerto quello che a noi interessa è incominciare a guardare da qua come vedete ragazzi nella testa di astro jack sono presenti le due mappe la prima atena quindi la mappa originale di fortnite che ne fa il di gioco si chiama atena se lo vogliamo dire in italiano troviamo anche tutte le isolette strane che ci sono in giro e se guardiamo le tre immagini la in alto lo notiamo e come vedete dall'altra parte della testa invece abbiamo Apollo Apollo per chi non avesse ancora capito è il nome nei file di gioco di questa mappa ma la cosa veramente incredibile la troviamo anche in questa immagine questo è un loading screen che ci verrà regalato che ci viene regalato con le sfide di travis abbiamo sempre astro jack qua in basso abbiamo un travis molto particolare ma non ve ne parlo tanto oggi comunque è stata trovata nei file di gioco anche una variante cyborg di travis avremo modo avremo modo di vedere la parte che ci interessa di più è appunto proprio quel globo terrestre sulla destra quel globo terrestre se lo guardate bene di primo impatto sembra avere al suo interno la mappa di forte ma se noi andiamo a zoomarlo notiamo che ci sono delle particolarità che in realtà non esistono in questa mappa di quali particolarità vi sto parlando beh molto semplicemente ragazzi di quelle che sono segnate come vedete è partendo da qua in basso e ve ne faccio vedere solamente alcune partendo da qua in basso ci sono dei corsi d'acqua che non sono assolutamente presenti in questo momento sulla mappa così come tutti quelli segnati e che vanno a formare appunto vanno a collegarsi la cosa veramente interessante che tutti mi avete fatto vedere ragazzi ovviamente è la parte di fattoria frenetica se noi andiamo a vedere nella parte più destra della mappa c'è tutta la sezione di fattoria che sembra avere terra bruciata e qui non si sa bene come interpretare questa immagine potrebbe essere veramente un fatto che accadrà su fattoria e quindi verrà rasa al suolo sappiamo che c'è un loading screen che fa proprio vedere che fattoria è in fiamme il che potrebbe essere un altro easter egg per quello che potrebbe succedere insomma ragazzi tante tante notizie tanta roba nascosta ovviamente per chi non lo sapesse arriva anche il backpack di travis che si chiama astro world ovviamente preso dal concerto tra le varianti questa è la variante base abbiamo la variante azzurra e abbiamo la variante arancione e volevo farvi vedere prima di salutarvi intanto vi mando la clip ragazzi il palco di travis montato completamente è davvero meraviglioso come si può vedere è assolutamente enorme se pensiamo che dobbiamo rapportarlo all'isola sul palco c'è il logo di questo concerto il suo logo è al neon sappiamo che molti di noi o comunque chi deciderà di guardare il concerto avrà anche delle animazioni particolari che potranno essere utilizzate in acqua quindi ci sarà proprio un una nuotata da parte del personaggio che ancora non esiste e rimarremo appunto galleggianti volevo farvi vedere l'ultima cosa ancora prima di salutarvi ed è proprio questo ragazzi tra pochi giorni in game vedremo il tanto atteso countdown purtroppo non è ovviamente per l'evento della season 2 ma è utilizzato per l'evento del concerto quindi lo abbiamo già visto nei precedenti mesi di fortnite nelle scorse season e apparirà esattamente così in game insomma ragazzi anche per oggi tantissime notizie per quello che riguarda il nostro fortnite io vi ringrazio per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e io sono proprio adesso in live su twitch ciao